Buongiorno a tutti, per chi non mi conosce, sono Mauro Roma del servizio cartografico, qui all'interno di Ispra, come ha detto Marco mi sono occupato della componente di cartografia, come dicevo mi sono occupato della componente di cartografia e tutto ciò che concerne il modello digitale del terreno, vado velocissimo, cerco di recuperare un po'. Allora, già anticipato Marco con qualche vista da Google Earth, però ecco, ci tenevo a far vedere questa area delimitata che è quella che ci porteremo dietro per tutta la presentazione di oggi, che è quella delimitata insieme a Roma in convenzione con la protezione civile di Roma Capitale. Questa è un'altra vista sempre da Google Earth, con vista, con visuale più orizzontale, questa ci arriva con l'attivazione degli edifici in Google Earth, quindi una vista 3D, è praticamente una foto plasmata sui dati altimetrici di Google. La faccio vedere perché poi mi servirà successivamente come confronto. La mia mission, allora, praticamente il mio obiettivo era la predisposizione di una cartografia di base, principalmente per riferimento cartografico univo per tutto il gruppo di lavoro, la base topografica stabilita a scala 1 a 1000 e alla fine ci siamo ritrovati con un aggiornamento topografico dell'area di studio rispetto alla documentazione in nostro possesso. Oltre a questo mi sono occupato dell'elaborazione del modello di dimensionale con la ricostruzione della superficie topografica e anche per certi aspetti anche per la colte superficiale, poi vedremo in seguito. Il modello è servito molto per i profili topografici dettagliati, per le sezioni di verifica geotecnica e le altre sezioni che sono state elaborate, geologica, idrogeologica, eccetera. E alla fine ci siamo ritrovati anche un effetto scenico 3D. Quali sono state le fonti di informazioni? Sono state diverse, principalmente la carta tecnica regionale, sì, la carta tecnica regionale che è quella denominata Roma Centro, alcuni datinometrici forniti come database, quindi quelli forniti da Roma Capitale o altri database tipo quello fornito da CNR e IGAG relativo a dati di sondaggio. Notizie varie, edite e inedite e anche l'ortofoto che ci ha servito per riferimento, quella del portale nazionale. Determinanti però sono stati i dati arrivati qui all'interno, quindi con il rilievo geodimetrico e le indagini geologiche che ha illustrato prima Marco, diretta e indiretta. I dati chiaramente sono stati organizzati secondo dei sistemi formati GIS. L'allestimento è stato portato avanti con software a nostra disposizione, quindi con ArcMap, la modellazione del terreno, strumenti di 3D Analyst e la ricostruzione tridimensionale dell'aria attraverso strumenti ArcSyn e SketchUp. Passiamo in rapida la segna alle informazioni. La CTR, la conoscete, scala 5000. di questa cartografia abbiamo usato relativamente pochi dati, qualche punto quotato che c'era disponibile, l'edificato che corrisponde quasi fedelmente allo stato dei luoghi e qualche dettaglio topografico. La parte più corposa arrivano dei dati gentilmente forniti da Roma Capitale, con dettaglio a scala 2000. Si tratta, originariamente erano dati CAD con informazioni di quota, erano sostanzialmente delle polilinee e dei punti quotati. Questo set di dati è stato opportunamente scremato. Ciò che è stata fatta praticamente una cernita di queste informazioni, abbiamo ricavato i limiti stradali, che sono stati fondamentali, i punti quotati della mezzeria stradale. Purtroppo l'area di stretto interesse all'interno dell'area di studio, che è quella che ho bordato con rosso in rettangolo, è praticamente il versante. Qui le informazioni erano abbastanza scarse. Non comparia nemmeno via dall'ongaro, qui compare perché ho messo io come riferimento. Quindi era un'area molto povera di informazioni altimetriche. Qual è stato il flusso operativo? Una volta organizzati i dati in formato GIS, abbiamo tentato con le prime elaborazioni di test e ci siamo trovati di fronte ai primi risultati e alle prime decisioni. Il risultato è soddisfacente? Beh, se fosse stato sì, saremmo giunti direttamente alle conclusioni con le cartografie elaborati vari. Purtroppo no. E qui è intervenuto il servizio di geofisica, colgo l'occasione per ringraziare Domenico, il signor Matarazzo, con il rilievo molto accurato, il rilievo topografico e la campagna geofisica, sempre portata avanti dal servizio. Quali sono stati gli ulteriori dati? Beh, il rilievo topografico ha portato una nuvola di punti in quella zona critica dove c'era carenza di informazioni e la geofisica con la geolettrica e la sismica con praticamente quote continue lungo tutti gli stendimenti. Queste informazioni hanno aggiunto oltre 800 punti quotati e che hanno contribuito ad arrivare a elaborazioni molto più dettagliate. Il risultato soddisfacente? No. Perché potevamo fare di meglio. Qui c'è stato proprio il bisogno di scendere in campo, quindi siamo andati proprio su campo a fare certosini con la metrella e con Alessandro a segnalare tutte quelle opere, quei manufatti che comunque sono elementi che condizionano l'andamento altimetrico dell'area. Quindi sono state tracciate Breakline e Replace Prolicon, che vi spiego immediatamente dopo che cosa sono, per arrivare a un modello definitivo. Primi risultati, la base topografica. È stata elaborata a scala 1 a 1000, e questo è uno zoom e la leggenda. Ecco, sulla leggenda vi soffermerai un attimo per far denotare la voglia di mettere in risalto proprio gli elementi che condizionano la superficie topografica, quindi muri, muretti, viali, eccetera. Questo è l'utilizzo della base topografica. Uno degli utilizzi della base topografica, sono state elaborate le carte che sono state messe in appendice della relazione. Sono la tavola 1, la carta di indagini, dove vengono raccolte tutte le indagini effettuate da Ispra in occasione dello studio, ma anche quelle pregresse. Sono qui elencate altre elaborazioni. Tavola 2, che è la tavola del riporto, della carta di spessore dei terreni del riporto. Tavola 3, la carta dell'ubbligazione degli interventi. Queste verranno illustrate ampiamente successivamente, quindi non mi soffermo. Modellazione 3D. Ecco, ritorniamo su quella immagine che vi ho fatto vedere prima. Ho inserito qualche riferimento, Villasciarra, vecchia stazione e viale Trastevere. Finalmente siamo arrivati a qualcosa di più veridiero che si avvicina allo stato dei luoghi. Come siamo arrivati al DTM? Preciso che è un modello di girare del terreno con elementi antropici, con quindi scalinate, muretti, tracciato statale, vialetti, eccetera. L'elaborazione è avvenuta attraverso il processo di correlazione DIN. Questa scelta è ricaduta per il fatto, semplicemente per il fatto che mantiene rigidamente i valori di quota in input e consente quegli elementi che dicevo prima che sono i break line e i replace polygon. i break line sono praticamente in sintesi le rotture di pendio e i replace polygon sono le superfici praticamente orizzontali, quindi piazzale, piazzaletti, eccetera. Tracce delle sezioni di studio. Vi illustro dove sono state effettuate le sezioni di verifica del modello geologico e che sono queste, il rosso, che tagliano praticamente il versante in modo trasversale e la sezione idrogeologica che corre quasi longitudinale al versante sul ricalca praticamente via Dallongaro. Questo è uno zoom. Volevo farvi vedere come la sezione 1 interessa una parte edificata, in particolare questi due edifici e praticamente si insinua nei locali, interessa i locali, garage e cantine di questi edifici. E tenevo poi a far vedere questa zona praticamente selvaggia direi, quasi impervia di Monteverde, purtroppo ci ha limitato un po' nel rilevamento di dati in generale. terreno superficiale di riporto o definito terreno rimaniggiato. Questo è sempre il modello tridimensionale e questo è come vista con lo spessore del riporto. Questo è stato ricavato dai dati stratigrafici disponibili e praticamente la colta superficiale di riporto è quasi ovunque presente nell'area di Monteverde con spessore variabile. Poi su questo magari si soffermerà Paolo più in dettaglio. Come possiamo notare è variabile da circa 0 a 15 metri ed è particolarmente concentrato a tergo delle opere murarie. in particolare qui nel fortino della Madonnina dietro i muri e particolarmente con lo spessore più elevato proprio a valle di quegli edifici che vi ho illustrato prima. Questo buco qui praticamente è i locali scantinate, cantine, garage di cui vi parlavo prima. E concludo a proposito di materiale più superficiale a Monteverde spesso ci siamo trovati di fronte a delle situazioni un po' un po' spiacevoli e lo racconto così su Via Dall'Ongaro praticamente due signori che si incontrano la signora Colcane signora attenzione lì c'è un piezometro e gli inchinomi sono già tutti occupati grazie grazie a tutti